Giornati di sole, temperature gradevoli, voglia di stare all'aria aperta ma inquinamento che non dà tregua alla città. Il valore delle PM10 nell'aria continua ad essere ampiamente sopra la media, così come quello delle PM2.5. La qualità dell'aria viene indicata dall'ARPA Lombardia come scadente. L'alta pressione, che garantirà tempo bello almeno fino a martedì, non farà che peggiorare le cose e così Cremona resta destinata a respirare male, almeno fino alla prossima perturbazione. Sconsigliato fare attività fisica all'aria aperta, a meno che non vi trasferiate diversi chilometri da qui, anche solo per farvi una passeggiata.